Hate Sphere, Serpent's Mile and Killer Eyes Disco del 2007 che accompagna la fuoriuscita di tutti i membri tranne ovviamente Peter Hansen che se non era chiaro prima è ovvio da qui che lui è sempre stato il padre padrone della band questo è un disco molto ispirato secondo me, un death thrash assolutamente perfetto, genuino, cattivo, grintoso, bellissimo è pieno di groove, è un disco in cui spicca assolutamente una scrittura minimale che però è interessante pezzi duri che marciano come treni e ovviamente la prova vocale di Jacob Bredal che è furiosissima è un gran disco questo